Musica Bentornati allo Stadio Olimpico di Roma per la seconda tappa di trofeo volo la mia 2933. Stavolta è la partita tra i Napoli e la squadra di calcio brasiliana, il San Paolo. Speriamo che questa emozionante partita sia ricca di gore e spettacolo. La squadra con il punteggio più alto si becca a un premio più grosso del mondo, ovvero il trofeo. L'abito di questa partita è Jefferson-Robert Ford. La partita inizia con la squadra ospite in possesso di palla. Vila, Regalito, tocco di ritorno per Vila. Mirazar, Mirazar riesce a mantenere il pallone, riesce a tenere il pallone lontano dagli avversari. Denildo Stein, attenzione, il difensore del Napoli spazza via il pallone. Gabbia Dini, palla recuperata dagli avversari. Cagliado, Mirazar. Attenzione, grande parata, che riflesso. Ci sarà la rimessa dal fondo. Il portiere è pronto per un tiro. Albiol Kisai Gli avversari intercettano bene il pallone e lo recuperano. Paul Firigno Denildo Stein Mirazar Attenzione, pericolo, grande parata. Che riflesso. Abbiamo qui il super portiere. Trova il tiro in porta. Incredibile traversa. Non è finita qui. Paul Firigno Denildo Stein Attenzione, e il pallone entra in rete. Gol! Ecco che è arrivato il primo gol della partita. 1-0 Allora si riparte con il Napoli in possesso di palla. Carlejon Giorgino Giorgino Palla recuperata dagli avversari. Cagliado Gli avversari purtroppo perdono palla. Poi la intercettano e infine la recuperano. Attenzione, fuori gioco. Niente da fare. Situazione evidente di fuori gioco. Kulibaly è pronto a tirare il pallone. Attenzione. Concentrati. Il San Paolo riconquista la palla. Big Tirdigno Porfirigno Villa Regalito Tocco di ritorno per Porfirigno Ci sono metri a disposizione. Attenzione. Secondo fuori gioco. A proposito di metri a disposizione Bisogna fare attenzione al numero di metri. Se no, guai. Kulibaly è pronto per il tiro. Attenzione. Gli avversari riconquistano la palla. Cagliado Mirazar Denildo Stein Attenzione. Grande parata Super portiere Palla in mano a Napoli Insigne Guram Hamsik Jorginho Tocco di ritorno per Hamsik Gabbiadini Gli avversari intercettano bene il pallone E lo riconquistano Big Tirdigno Porfirigno Porfirigno Denildo Stein Non può sbagliare da lì Parata straordinaria Come un gol Palla ripresa dagli avversari Palla ripresa dagli avversari Porfirigno Villa Denildo Stein Attenzione Il pallone finisce in rete Goal Grande soddisfazione Per la squadra ospite Rivediamo replay del gol Guardate bene Guardate bene Denildo Stein Come è riuscito a tirare in rete Il punteggio è 2-0 Per il San Paolo Brava la squadra ospite che ha intercettato il pallone Ardaio 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 Denildo Stein Mirazar Perdono la palla Intercettano bene E la recuperano Il San Paolo è in vantaggio Attenzione Terzo fuori gioco Queste cose non dovevano succedere Ormai sono successe Non è la fine del mondo Koulibaly è pronto a passare la palla Jorginho Hamsik Tocco di ritorno per Jorginho Tocco di ritorno per Hamsik Gabbiadini La squadra ospite riconquista la palla Ardaio Mirazar L'arbitro ha stabilito un minuto di recupero Denildo Stein Attenzione Il portiere Blocca il tiro Senza problemi I primi 45 minuti sono giunti a termine Risultato 2 a 0 Tutti negli spogliatori C'è l'intervallo Bene Il secondo tempo inizia con il Napoli In possesso di palla Hamsik Palla riconsegnata agli avversari Hoffman Mirazar Porfirino Attenzione Attenzione Pericolo Ottimo intervento del portiere Recuperano la palla Attenzione Pericolo Grande parata Che riflesso Ci sarà una rimessa laterale Guardate Guardate Ardaio come concentrato Gli avversari hanno regalato il pallone su una rimessa laterale Amsik Insigne Giorginho Tocco di ritorno per Insigne Gli avversari recuperano la palla Hoffman Mirazar De Nido De Nido Stein Attenzione 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 Ottima parata questa Sarà calcio d'angolo per la squadra ospite Guram Spazza via il pallone Pallone recuperato dagli avversari Vic Dirdigno Porfirino Vila Regalito Attenzione Il pallone finisce in rete Gol Il San Paolo rimane in vantaggio Rivediamo questo fantastico gol La squadra ospite sta giocando decisamente bene Si è impegnata tantissimo Vedete Regalito come è riuscito a fare gol Il punteggio è 3 a 0 Ovviamente per il San Paolo Palla in mano a Napoli Carillon Gabbiadini Allan Attenzione Gli avversari riconquistano la palla Rebello Vic Digno De Nido Stein Mirazar Mirazar mantiene il pallone e lo passa De Nido Stein Attenzione Il pallone finisce in rete Gol La partita è del tutto brillante grazie al tiro in porta Vedete De Nido Stein come è riuscito a fare gol Adesso il punteggio è 4 a 0 Questo gol porta un fortissimo aumento del vantaggio Porfirino Porfirino De Nido Stein Attenzione Il pallone entra in rete Gol Siamo 5 a 0 La partita è del tutto La partita deve finire in cassaforte Porfirino Villa De Nido Stein Mirazar Tocco di ritorno per Porfirino Attenzione Il pallone finisce in rete Gol Grandissima soddisfazione per il San Paolo e i tifosi Rivediamo questo splendido gol Guardate bene com'è riuscito Porfirino a fare gol Adesso il punteggio è 6 a 0 Punteggio pesantissimo Palla riconquistata dagli avversari Hoffman Mirazar Attenzione Attenzione Il pallone entra in rete Ed esce il gol Grandissimo gol Guardate Mirazar come è riuscito a fare gol Ora 7 a 0 Il San Paolo resta in vantaggio Chi vince la partita bisogna capire punteggio finale De Nido Stein Palla recuperata da Napoli Koulibaly Allan Insigne Palla recuperata dagli avversari Villa Mirazar De Nido Stein De Nido Stein riesce a mantenere il pallone Attenzione Attenzione Il pallone entra in rete Gol Se continua così Vincerà un grosso premio Rivediamo questo gol Vedete com'è riuscito 8 a 0 In questa partita In questa partita C'è una sola squadra Che mostra il punteggio Palla recuperata dagli avversari De Nido Stein De Nido Stein De Nido Stein Mirazar Attenzione pericolo Grande intervento del portiere Palla recuperata dagli avversari Palla recuperata dagli avversari Regalito Regalito De Nido Stein Attenzione Il pallone Finisce in rete Goal Questa partita È decisamente Troppo bella Il San Paolo Darà una soddisfazione Ai tifosi Bene Il punteggio È 9 a 0 Palla recuperata dagli avversari Regalito Palla Finisce fuori campo Ci sarà Rimessa laterale Sostituzione per il Napoli Purtroppo La delusione Per i tifosi Del Napoli È vicina Mirazar Palla recuperata da Napoli Chisai Ops Palla fuori campo Di nuovo Sarà calcio d'angolo Palla spazzata via Poi recuperata dagli avversari Ci sarà Un minuto di recupero Attenzione Palla recuperata da Napoli All'anno La partita Si conclude qui Risultato 9 a 0 Vittoria Per il San Paolo Il trofeo Volo la mia 2-9-3-3 Va Al San Paolo Ora Non mi resta altro Che salutarvi E darvi appuntamento Al prossimo video Al prossimo video